Buongiorno a tutti, nuova giornata, nuovo vlog e oggi questa giornata inizia in modo molto emozionante perché dovete sapere che il mio Instagram è stato hackerato la scorsa settimana ma Instagram non mi ha ancora dato nessuna notizia su come togliere questo tizio che mette link porno sul mio account però finalmente mi è arrivata in questo momento la mail di risposta di Instagram come vedete anche Ragù è molto emozionato per questa situazione quindi ragazzi questa è la mail oddio che succederà new password sì è il mio Instagram potete vedere questo è il mio Instagram e questo nome di merda verrà cambiato e non cliccate assolutamente su questo link bene ora che il mio Instagram è stato ripristinato si spera e sono tornata a essere in possesso delle mie fotine comunque oggi sarà una giornata molto lunga perché prima di tutto andrò a incontrare Mario perché assieme andremo a parlare con la proprietaria di casa che ha un favore da chiedermi e queste cose mi mettono veramente ansia io spero non mi chieda soldi e poi incontreremo degli amici andremo a pranzo a mangiare la kimchi jjige in uno dei ristoranti cui devo andare a mangiare per girare il video per lavoro e al pomeriggio andremo finalmente a comprare il drone e e e e e e Il momento è morio lo so che fuori moda nel momento tipo che è mungo e lo so che non è fuori moda perché In Corea è di moda è appena stato attivato, potete sapere che in Corea hanno talmente pochi monumenti in cui mettere i Pokestop che li mettono nei centri commerciali, no nei combini, nei supermercati Il prossimo Pokestop invece è una panchina Di male in peggio, qui c'è lotteria come Pokestop che è tipo McDonald's, la disperazione in Corea veramente C'è un cane in autobus, poi mi sta attaccando Siamo arrivati a Londres e ora dobbiamo andare a parlare con questa proprietaria E registrerò la conversazione sul telefono perché ho paura che mi chieda soldi e di bucarmi in qualche affare molto losco Perché voi vi vedi il tridrama, lo sapete sempre che ci sono degli affari loschi che girano in Corea Quindi... Poi mi ha detto che mi regala il kimchi ma tu ti rendi conto? Cioè ha detto che mi regala il kimchi per se gli faccio il favore, quindi vuol dire che è sicuramente qualcosa di molto ansioso Voglio sapere che Mario aveva distrutto la mia selfie stick per col suo sedere pesante Cioè c'è Patricia che sta morrendo Dobbiamo fare il quadratore dei nostri sederi a confronto, cioè non ho capito E Mario sta cercando di farlo stronzo dicendo che il mio culo è più grosso del suo, cosa che è vera Però comunque non mi sembra una cosa molto carina da dire a una ragazza Vabbè va più grande ma non si fia più pesante Ok, quindi è ancora peggio perché il tuo è tutto di muscoli quindi pesa di più, il mio è tutto di grasso quindi pesa meno Mario sta peggiorando la sedere Non è il sedere in sé che pesa, è comunque tutto il peso del corpo che fa, diciamo... Mario, aspettiamo, io la finirei qui Comunque l'importante è che questo selfie stick sia tornato Volete salutare? No, che sono appena sbagliata Eh, Patricia è molto distrutta dalla vita Perché ieri sono successe cose che non possono essere dette Che non aveva mai succedere? La vita faceva Vabbiamo avuto in regalo Ah, abbiamo avuto in regalo il kimchi dalla proprietaria di casa Spiegaci perché ci ha dato il kimchi Mario Eh, questioni losche Questioni losche Una firma su un contratto alquanto losco, altrettanto losco E ho firmato il nome di Rossella Rossella mi dispiace Guardate, sono delle rape Fatte a mano dalla vecchia Bello E ora con la nostra bellissima sportina del kimchi Ci stiamo dirigendo nella zona di Sodemun Che non è molto lontana Saranno circa 4.000 won di taxi Se vogliamo dirla a livello di taxi, aiutoci in best E andremo a mangiare la kimchi chige O gentilmente offerta da Market Square E kimchi chige e kimchi chim È una cosa molto buona Assieme all'amica giapponese E andiamo a mangiare la kimchi chige E siamo arrivati a Sodemun Dove non c'è niente Però c'è molto vento E Mario davanti a questo white screen Sembra proprio un modello Ora stiamo andando ad incontrare l'amichetta di Mario Abbiamo finito di mangiare La kimchi chige è stata molto buona E camminare all'indietro è molto difficile Come definiresti con un aggettivo questa kimchi chige? Un aggettivo che non sia buona Era una kimchi chige sfiziosa E dopo la kimchi chige sfiziosa Ci dirigiamo finalmente a donne A prendere il drone Tatti È giallo raga ma che vuol dire? È giallo, è giallo Perché è giallo questo tatti? Viene la coppia Che non è giallo Vi rendete conto? Finalmente ci sarà un drone È come comprare un cagnolino nuovo È uno nuovo E come si chiama? Sghe... Sgheggia? Sgra... Lagrima Lagrima Si chiama una lagrima furtiva Una lagrima furtiva Stiamo per andare a comprare una lagrima furtiva Che è il nome del mio nuovo drone Finalmente Il dronino piccolo E se non ce l'hanno Poi viene un colpo Guardate c'è un drone gigante qua fuori Bello Questo è il palazzo della DJ Aya Onde Mi raccomando Se volete comprare un drone Compratelo qui Bello Bello E finalmente sono postieditrice ufficiale di un drone Mario non sei emozionato anche tu Ma è quanto te hanno Vero? Anche lui e Mario ha una bellissima busta Abbiamo entrambi una bellissima busta E... Beh la signorina è stata molto gentile Dai Mi ha dato la lista dei posti per farlo volare in Corea Che noi seguiremo la lettera Perché mi raccomando Bisogna seguire la lettera queste cose Se no sono cazzi Veramente E direi che lo proveremo questa fine settimana All'anno arriva Che dice? Si 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 Comunque No adesso Allora Mario che deve prendere i pochi E non qua E perderò i soldi Comunque sto dicendo Che non abbiamo... Cioè questa è la fine della nostra giornata Abbiamo preso il drone Finalmente questa giornata è finita Ci stiamo dirigendo a casa E questo vlog finirà con alcune riprese fatte col drone Se siamo riusciti a farlo volare E quindi questo è tutto Vi lascio a Mario che cerca di prendere i pochi Non dalle macchinette E farà fake Se questo mio video vi è venciuto Mi raccomando Ricordate di mettere like E iscrivervi a tutti i nostri social network Al prossimo vlog E iscrivervi a tutti i nostri social network Ciao E iscrivervi a tutti i nostri social network E iscrivervi a tutti i nostri social network E iscrivervi a tutti i nostri social network Grazie.